Ciao a tutti, questa mattina avevo proprio voglia di rimettere finalmente le mani in pasta oggi facciamo una pasta fresca fatta in casa che è qualcosa di straordinariamente buono qualcosa di incredibile, una chicchetta che avrete a casa vostra facciamo i ravioli ripieni di asparagi iniziamo a vedere la ricetta passo passo iniziamo dal ripieno, per 8 persone occorrono 350 grammi di ricotta di pecora 330 grammi di prosciutto cotto alla brace 500 grammi di asparagi 100 grammi di parmigiano reggiano una cipolla rossa un uovo un pizzico di pangrattato noce moscata olio e sale iniziamo preparando il ripieno e la prima cosa da fare sono gli asparagi perché questi prima li dovremo cuocere e poi lasciare anche un pochino raffreddare prima di aggiungerli al resto del ripieno come si fa nella maniera solita li ho lavati bene ho tagliato le punte un pochino più lunghe il gambo a tocchetti una volta tagliati gli asparagi andiamo a tagliare anche una cipolla rossa di tropea che dà sempre tantissimo sapore a tutte le ricette l'ho tagliata grossolanamente perché poi una volta cotto questo noi lo andremo a frullare quindi non c'è nessun problema andiamo ai fornelli ci mettiamo un giro di olio extravergine di oliva su una padella antiaderente naturalmente caliamo giù tutto insieme asparagi e cipolla io ho messo tranquillamente tutto insieme perché è una cottura dolce ma lunga ci vorranno all'incirca 20 minuti saliamo in modo che rilasci un po' di liquido di vegetazione e lasciamo cuocere ogni tanto va controllato se tante volte sta attaccandosi sotto magari bagnate con un goccino di acqua calda ora passiamo al resto del ripieno io non ho il formaggio grattugiato di solito compro i tocchi da un chilo di parmigiano quindi ogni volta me lo preparo io ne ho tagliato circa 100 grammi poi aggiungiamo il prosciutto cotto questo è un prosciutto cotto molto saporito perché è cotto alla brace quindi è un pochino più saporito di quello normale la ricetta sarà ancora migliore sicuramente prendiamo un robottino un piccolo mixer prima trito naturalmente il parmigiano lo vado a tritare con il mixer una volta che l'ho tritato bene sempre sullo stesso tritatutto aggiungiamo il prosciutto cotto e anche questo lo facciamo macinare io preferisco non lasciare i pezzi grandi ma preferisco appunto macinare bene perché poi questo sarà il ripieno e non amo molto sentire i pezzetti dentro ai ravioli ecco qua questo bellissimo e buonissimo già trito di parmigiano e prosciutto cotto andiamo a ricontrollare gli asparagi vedete con il vapore stanno cucinando benissimo si sono ammorbiditi bene a questo punto dopo che li ho fatti un po' raffreddare adesso io chiaramente mando avanti le immagini velocemente dopo che li ho fatti raffreddare li vado a frullare sempre sul tritatutto di prima hanno un colore meraviglioso guardate che verde e non vi dico io ho assaggiato sono buonissimi fatto tutto questa preparazione per il nostro ripieno iniziamo a fare la vera e propria pasta fresca fatta in casa che è qualcosa che io adoro tantissimo mi è mancato durante l'estate di solito non si fa mai la pasta si va sempre di corsa si esce sempre non si ha tempo invece oggi posso veramente fare questo lavoretto che poi se una persona ha l'abitudine di preparare la pasta fresca fatta in casa ci si mette davvero un attimo io sto mandando le immagini scusate dell'impasto di tre uova con 300 grammi di farina in realtà per la ricetta completa avrete bisogno di una pasta fresca fatta con 5 uova e 500 grammi di farina io l'ho fatta in due volte ho impastato inizialmente queste tre uova e vi dicevo se uno non mandasse le immagini velocizzate a fare la pasta fresca una persona che è pratica la fa sempre in 6 minuti 5 minuti e mezzi tu veramente hai già la sfoglia pronta la fai riposare è sufficiente anche un quarto d'ora e sei pronto per stenderla poi con la macchinetta fai in un attimo davvero non è niente di complicato non è niente che va organizzato chissà quanto prima per una persona abituata è un lavoro semplicissimo di routine avete visto io nel frattempo che parlo ho impastato le tre uova con la farina nel modo che ho fatto vedere tante volte adesso vado a lavorare l'impasto con le mani perché tanto la differenza la fa il fatto di averla fatta a mano il calore delle mani la lavorazione, il tirare la pasta girare spesso il panetto e tirarlo la rende elastica la rende buonissima perché c'è molta molta differenza rispetto alla pasta fatta meccanicamente con le macchinette io preferisco e a volte faccio anche prima perché poi non devo lavare i 2000 elettrodomestici così faccio prima, faccio davvero in un attimo ho quasi finito di impastare adesso la faccio riposare sotto una campana di vetro sotto una bulla per 30 minuti poi la vado a tirare lasciamo appunto riposare la nostra sfoglia e intanto riprendiamo il ripieno questa è una ricetta un pochino articolata ogni tanto è bello anche fare una ricetta un pochino più particolare anche se più lavorata aggiungiamo al parmigiano e al prosciutto che avevamo tritato la ricotta, io uso sempre quella di pecora perché è un sapore che preferisco è una ricotta che trovo molto fresca e quindi prendo quella di pecora aggiungo, mischio poi aggiungo anche la crema che oramai si è formata e perfettamente raffreddata la crema di asparagi è già buonissimo un ripieno buonissimo molto particolare gli asparagi si sentono tantissimo alla fine quindi non pensate che sia alla fine chissà quanto delicato in realtà sono dei ravioli molto molto saporiti e gustosi avete visto ho messo un po' di noce moscata ci mettiamo un uovo io non aggiungo sale perché ho già molto parmigiano all'interno di questo ripieno gli asparagi sono stati salati il prosciutto è naturalmente saporito quindi per l'uovo non vi preoccupate non aggiungete sale mischiamo bene il tutto adesso mi aiuto con una spatola per prendere anche quello che rimane attaccato sui bordi e a questo punto posso sentire bene se è necessario magari un pizzichino di pane grattato perché magari è un ripieno troppo morbido io sul mio l'ho messo ho messo un pochino di pane grattato copro con la pellicola e faccio riposare in frigorifero in questo modo si rassoderà un pochino intanto riprendiamo riprendiamo la nostra pasta sfoglia la devo sicuramente massaggiare ancora lavorare un attimo due tre minuti guardate quanto è elastica quanto è morbida è perfetta andiamo a tirarla ora come si fa sempre quando si usa la nonna papera la macchinetta per stendere la sfoglia bisogna un attimo appiattirla un po' con il mattarello l'andiamo ad appiattire un po' poi la passiamo sulla macchinetta sul rullo, quello liscio chiaramente per la sfoglia inizialmente la misura più larga un paio di passaggi in modo che diventi ancora più come posso dire si impasti ancora meglio proprio con il movimento con la pressione del rullo poi andiamo avete visto una volta che abbiamo questa bella losanga la andiamo a tagliare a metà se è necessario e la tiriamo fino allo spessore che ognuno di noi preferisce io personalmente un raviolo così grande così rustico come lo faccio io lo devo per forza di cose tirare alla misura 5 la misura 5 è una misura dove la sfoglia non è estremamente sottile quindi ha ancora una certa tenacità riesce a tenere bene un ripieno così importante così grande perché guardate quanto li sto facendo grandi considerate che quelli più grandi che faccio perché poi sono proprio fatti sono uno diverso dall'altro è impossibile per me farli tutti insieme non in questo caso non sono fissata con l'estetica ma vi assicuro il sapore non ha assolutamente nessuna penalizzazione dal fatto che siano più grandi o più piccoli io li faccio così grandi mi piacciono tantissimo poi li sistemo su una teglia di cartone con un foglio di carta forno sotto li metto vicini ma mai sovrapposti mai perché questa è pasta fresca li sistemo tutti vicini sul vassoio considerate vi dicevo che un raviolo di questi grandi che faccio io può pesare già 50 grammi quindi due già sono netto per fare una porzione tre o quattro grandi sono sufficienti li sistemiamo sul vassoio con la carta forno vi dicevo perché in questo modo voi potete anche tranquillamente passare il vassoio sul congelatore per due o tre ore poi una volta che è bello teso appunto è iniziato a congelare lo potete sistemare nei sacchetti per il congelatore e dividerlo già con il peso che vi serve a porzione ora riguardiamo un attimo come si chiudono i ravioli ma qui assolutamente io non posso insegnare niente a nessuno perché non sono brava ma nessuno a casa mia si è mai lamentato io semplicemente passo tutto intorno al ripieno cerco di eliminare l'aria schiaccio bene in modo che poi non si apra la pasta in cottura e vengono vi assicuro magari non belli ma buoni si questo è un primo piatto strepitoso burro e salvia e un ottimo parmigiano magari 30 mesi o anche di più se trovate spero che questa ricetta vi abbia fatto tornare voi a rimettere le mani in pasta arrivederci al prossimo video un abbraccione un abbraccione grazie a tutti